si pantelleria l'ultima isola che vuol dire che veramente l'ultima isola per definizione perché l'isola più vicina all'Africa, il momento d'Europa più prossimo all'Africa che al continente. Viene da una scoperta abbastanza recente, io preferivo altre isole più balneabili, più estive, dove era più facile andare. Pantelleria è un'isola abbastanza difficile, aspra, di colori eccessivi in tutti i sensi, perché si va dal nero-ossidiana al colore proprio della lava, questa fiamma. L'ho scelta perché è un'isola diversa da tutte le altre, è un'isola che ha rinunciato al turismo di massa, se non per pochissimi giorni all'anno, e guarda se stessa, è un'isola molto agricola e che ha una cura direi ossessiva, per non dire spirituale, del proprio territorio. E' un territorio che è faticoso perché è stato strappato pietra dopo pietra al vulcano, Pantelleria è un vulcano come tutte le isole degli arcipelari intorno alla Sicilia. Ed è un vulcano tosto, un vulcano particolarmente presente anche nelle manifestazioni più piacevoli, perché ci sono delle saune naturali dove ti puoi infilare, nelle zolfatare, nell'acqua che ribolle, ma è anche un vulcano che butta fuori pietre e quindi ha una necessità di manutenzione costante. Ecco, a me questa capacità di fatica, di attenzione, di agricoltura estrema, perché è estrema il dire l'agricoltura, mi hanno detto che questa è un'isola, in qualche modo, un'ipotesi di isola perfetta per quello che mi riguarda. La storia di Pantelleria è una storia archeologica, preistorica, perché ci sono degli insediamenti che si chiamano Sesi, il popolo che l'abitava viene chiamato Sesiota. I Sesi ormai restano soltanto delle presenze funerarie, sono delle grandi tombe costruite pietra su pietra, come se fosse un dammuso. Il dammuso è la costruzione tipica di Pantelleria che serve a un tetto arabo per trattenere l'acqua. Quindi ha una storia antichissima, come penso i primi navigatori, legata proprio ai primi traffici nel Mediterraneo, quindi una storia millenaria. Poi fa parte della storia del Mediterraneo, quindi una storia di incroci, di presenze, di commerci, tantissimi commerci. Tra l'altro l'Ossidiana di Pantelleria era una moneta di scambio, quindi era un'isola ricca di moneta. Tra l'altro coniava pure monete, aveva una sua moneta Pantelleria che è di origine fenicia, come quasi tutte le terre del sud del Mediterraneo. Un'isola fenicia, quindi molto attenta alla buona relazione commerciale con gli altri. Quindi un'isola aperta, un'isola molto aperta, un'isola dove si costruivano navi, un'isola di navigatori. Poi a poco a poco questo sguardo sul mare si è fatto sempre più corto per guardare soltanto se stessa. Pantelleria è la prima terra d'Europa che viene coltivata a cotone. Immaginate questo cotone fiorito bianco in un paesaggio assolutamente nero di lava. Si faceva cotone e si facevano i primi abiti in cotone, che erano quelli dei marinali. Quindi è una storia impermiata sui traffici ed è una storia assolutamente simbolicamente mediterranea. Quindi dove le comunità si ritrovano, si mischiano e vanno avanti. È legato sia alla situazione geografica che alla preminenza del mio cuore, manca un'idea di isolamento che ormai si va perdendo sempre di più. Quindi ultima isola proprio come idea di isola. Il resto poi, le altre isole sono cartoline turistiche. Le altre isole, io penso alle isole del Mediterraneo, quelle italiane, ma anche gran parte delle isole greche, della Turchia, della Tunisia, vivono una stagione soltanto che è la stagione dell'estate. Poi il resto dell'anno rimangono cristallizzati nell'ultima fotografia dell'estate. Pantelleria no, Pantelleria ama le altre stagioni, che sono le stagioni del lavoro della terra. Pensate che Pantelleria ha la coltivazione della vite di Pantelleria, dello zibibbo, è l'unica coltivazione protetta dall'UNESCO, perché è una coltivazione assolutamente particolare, diversa da tutte le altre, è molto manuale. Pantelleria ha una sorta di preminenza sulla produzione dei capperi. I capperi a Pantelleria sono istituzionali, sono questi lunghi serpenti vegetali che si muovono per l'isola. Quindi è un'isola diversa dalle altre, che non si affida alla volubilità del turismo, ma ha una sua forte concezione del proprio ruolo, della propria posizione nel Mediterraneo. È l'unica piccola isola del Mediterraneo dove è possibile far crescere l'agrume. L'agrume è un albero che ha molto bisogno d'acqua, in un'isola dove non piove per 300 giorni l'anno. Quindi c'è un sistema molto intelligente, che poi si è scoperto che c'è anche nello Yemen, in questa fascia meridionale sempre priva d'acqua, dove si costruiscono i cosiddetti giardini in siciliano, dove si coltiva un solo albero di agrumi. E sono alberi circondati da una torretta di pietre, una per una, che raccolgono l'umidità notturna dell'aria e la portano fino alla radice della pianta. Questa è un'idea vincente, perché è l'unica isola che ha l'agrume e l'agrume serviva ai naviganti, contro lo sgorbuto, contro le malattie da mancanza di frutta fresca. La coltivazione dell'ulivo, Pantellerie si chiama così anche perché è un'isola dei venti, dove non cessano mai venti, venti impetuosi, molto forti. Eppure si fa l'ulivo, si fa l'olio. L'ulivo è una pianta molto delicata rispetto al vento. Quindi che cosa fanno? Sono riusciti, attraverso il peso delle pietre, a fare correre gli ulivi per terra, così da evitare il vento. C'è una cultura dietro che è davvero millenaria e che abbraccia un meridione di progetti, di idee, di intelligenza, di laboriosità. Io da siciliano ho sempre pensato che Pantelleria sia la realizzazione di un'utopia, dell'utopia della laboriosità e dell'essere al mondo con intelligenza. mi fa molto felice, evidentemente, non solo per il primo in sé, ma anche per l'attenzione della Francia al mio lavoro. Io tra l'altro ero già stato qui a San Malone tanti anni fa con un altro libro di viaggio, che era un libro sull'Africa. E questo ritornare su una terra così vicina all'Africa mi fa pensare che in fondo non sto lavorando male, sto ragionando da molti anni su questi margini del mondo, su questo confine tra Europa e Africa. Su questo confine che è anche un confine umano, un confine antropologico, un'idea di essere al mondo lontani da un certo tipo di modernità. Ecco, se c'è un grande fascino in Pantelleria è quello di saper vivere con poco. Cioè, non è un'isola di consumi dove bisogna consumare, è un'isola dove persino l'acqua l'acqua che ci scorre nei rubinetti ha un valore fondamentale, non solo per la persona in sé, ma anche per l'ambiente in cui si sta. Quindi viene conservata, viene amata acqua. Ecco, c'è un'idea dell'uomo molto più spirituale che altrove. È proprio un rapporto, me ne sono accorto una notte, guardando le stelle da uno di questi giardini chiusi ai venti ma aperti verso il cielo. Ed è una sensazione molto verticale di Pantelleria, no? che il tuo rapporto con il mondo è attraverso la terra ma anche attraverso il mistero del cielo. Il che mi convince sempre di più che il meridione è ancora parole nuove da dire. Questo premio non premia soltanto me, premia anche la capacità di Lizzy Chappuix, della mia traduttrice, di rendermi chiaro e leggibile anche qui in Francia. Gran parte dei meriti dei miei libri sono dovuti alla bravura di Lizzy che è entrata nel mio linguaggio in maniera profonda, in maniera... Forse mi conosce meglio lei che io me stesso perché i meccanismi del linguaggio sono i meccanismi più profondi di una persona. Quindi continuerò a ringraziarla sempre per il lavoro che fa.